FIAT 500 Le due auto dopo l'impatto sono finite nel fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e Rivarolo, i carabinieri del nucleo radiomobile di Venaria Reale e la polizia sardale. Dopo le prime cure, due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Ciriè e due all'ospedale di Ivrea. La dinamica è il vaglio della polizia sardale. Grazie a tutti.